La tintarella piace proprio a tutti e mentre si diffonde sempre più il ricorso alle lampade sorale anche da parte degli uomini, i medici specializzati ricordano i consigli per avere una bella abbronzatura senza correre rischi, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione al sole. La protezione serve sempre perché il rischio di scontature e danni permanenti è sempre molto alto, la pelle va sempre protetta. Per quanto riguarda le lampade, gli esperti ovviamente sconsigliano. Noi diamo sicuramente il consiglio di utilizzare una fotoprotezione che varia da una 30 ad una 50 al secondo del fototipo. Il fototipo che cos'è? È non soltanto legato al colore degli occhi, al colore dei capelli, ma è proprio il modo in cui la nostra cute reagisce al sole. Ovviamente i pazienti con occhi chiari e capelli biondi o rossi avranno una maggiore tendenza alle scottature, ma non è detto. Quindi il nostro consiglio è quello di applicare una fotoprotezione ogni due ore perché naturalmente l'acqua del mare e il sudore tendono quindi a rimuovere la nostra protezione e ad applicare occhiali proprio anche per la protezione degli occhi, delle palpebre e cappelli per la protezione del cuoio capelluto, delle orecchie che spesso tendono a scottarsi e sono anche spesso sede di epiteliomi basocellulari o squamocellulari e la protezione anche degli annessi cutanei, quindi in particolar modo dei capelli. Le lampade solari sono sempre dannose oppure si possono fare con un uso moderato? Le lampade solari sono assolutamente sconsigliate, tant'è vero che da recenti studi e da recenti congressi è stato proprio dimostrato che la lampada aumenta del 75% la probabilità di sviluppare un melanoma o un tumore della pelle. Quindi purtroppo la lampada ha la caratteristica di arrivare in profondità, di arrivare al derma. Quindi il discorso facciamoci la lampada perché questo ci comunque garantisce una minore probabilità di scottatura è un discorso un po' sbagliato. Quindi noi consigliamo degli integratori, che possono essere integratori a base di beta carotene o di nicotinamide da fare per lunghi periodi da maggio fino a settembre-ottobre e poi in persone selezionate una somministrazione anche di due fino ad arrivare a quattro capsule al giorno durante la fotoesposizione acuta. Naturalmente poi la fotoprotezione è importantissima in età pediatrica perché tutte le scottature, quindi tutti i danni da sole in età pediatrica aumentano in maniera proprio esponenziale l'incidenza dei tumori della pelle in età adulta.